Partiamo da questa premessa ghiotta. Se lei ha più di 6-7 mila follower, tu sei in un mare di cacca. Cacca calda. Specie se hai meno di mille follower. Siccome quindi non puoi impressionarla con i numeri, devi, dobbiamo, ragionare d'austuzia. Come nella cazzo di serie House of Cards. Quello che fanno gli altri uomini è omologarsi. Si comportano, se ci fai caso, tutti uguali, con le stesse parole. Gli stessi atteggiamenti, gli stessi risultati poi, no? Al massimo un like all'eventuale suo messaggio, o un piccolo commentino dove la ragazza ride, pollice in su, fine. Ma tu non puoi accontentarti delle briciole. Non sei un piccione. Un giorno lo sarai, ma non è questo il giorno. Ricordati questa fottutissima regola. Stampatela nella testa. Una donna non vuole un uomo che faccia ciò che lei si aspetta. Si aspetta il tuo complimento? Sì, non funzionerà. Si aspetta le tue attenzioni? Sì, non funzioneranno. Si aspetta gesti positivi? Sì, non funzioneranno. Devi toglierti dalla testa ciò che lei dice di voler ricevere. Eh, a me piacciono quelli che mi fanno i regali, sai, piccolino. Quelli che sono dolci mi mettono al centro dell'attenzione e mi trattano come una principessa. Lei sta solo tirando acqua al suo mulino. Certo, è normale, le fanno comodo quelli che le fanno i regali. A chi non farebbe comodo? Ma non è comportandoti come lei ti consiglia che la conquisterai. Non funziona così. Cerchiamo di capire come prenderti le sue attenzioni in mezzo a migliaia di altri pretendenti. Un limone al giorno è il primo libro game in Italia e nel mondo in ambito sentimentale. Vuoi conoscere fino a 20 ragazze diverse, con età diverse e atteggiamenti diversi senza muoverti di casa? Beh, un limone al giorno ti permette di fare esperienza prima a casa e poi nella realtà minimizzando i fallimenti. Il protagonista qui sei tu. In base alle scelte che farai durante la storia, alle frasi che sceglierai, alla conversazione e allo stile, il libro game si svilupperà in un modo piuttosto che in un altro. Mille copie disponibili. Lo prenoti in forma anonima su www.unlimonealgiorno.it per riceverlo a partire da febbraio 2023. 1. Messaggio pubblico controcorrente. Questa è una vera e propria tecnica, una tecnica rischiosa ma straefficace. Individua la ragazza che ti piace, scrivi sotto una sua foto super bersagliata da commenti di altri rapati. Un messaggio tipo Mamma che disagio nei commenti, virgola. È una ragazza normalissima, puntini puntini, che peraltro mette sempre le stesse identiche foto che potete trovare in altri. Metto un po' di numeri, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 5 profili, puntini puntini. Oppure, sì carina dai, virgola, come ce ne sono tante, puntini puntini. Ma la cosa davvero importante è, due punti, la sai fare la carbonara? Oppure la mia preferita, carina come ce ne sono a milioni, punto esclamativo. Se avessi postato la foto con un libro, avresti guadagnato mille punti, puntini puntini. Ma mi rendo conto che con il sedere ti ripiù like, punto esclamativo, faccina che sorride quella lacrima. Questo è il primo vero step che ti differenzia rispetto a tutti gli altri uomini. Tanto c'era la vostra viglia che ha finito, se volete saperlo. Qui peraltro dovrai continuare, in coaching lo fai, scrivendoli in privata, agganciandoti ad una sua eventuale risposta. Perché rispondono. Due, commento costruttivo pubblico. Qui lavoriamo su un qualcosa di diverso. Anziché provocare punzecchiare, creiamo un commento che si differenzia in quanto costruttivo però. Lo fai solo con quelle ragazze però che mettono foto un po' diverse. Magari con un libro, magari vi siete un po' più eleganti. Una roba tipo, finalmente una che posta qualcosa di diverso rispetto alla solita frase fatta sotto la foto del culo, punto esclamativo. Dici che hai anche letto il libro, punto esclamativo. In questo caso se la ragazza in quel momento sta leggendo un libro nella foto. Qui utilizzo il plurale, è una tecnica, sai perché? Per non fare sembrare la frase troppo intima e diretta, se così vogliamo, solo a me lei. Tre, la chicca speciale. La metto solo perché quest'anno è partito ancora più forte del 2022. E perché vi state lanciando e state acquistando i corsi in massa. Stai molto attento. Individui la ragazza che ti piace. Individui quindi i suoi gusti. Crei una storia dove chiedi un consiglio e o dai a tua volta spunti aggiuntivi circa quella passione o cosa che lei ha postato, appena postato. Poi metti il tag nella storia. Cioè nella tua storia che ha appena fatto metti il tag, il suo nome. Ma non lo rendi visibile nella storia. Lo rimpicciolisci fino a renderlo non più visibile ad occhio nudo. A lei arriverà il tag. Ma non ci sarà traccia del suo nome all'interno della tua storia. Aumenti le possibilità che lei si accorga di te, di quella storia chiaramente. A capire il contenuto, chi sei e magari risponderti. Partiamo da qua.